buongiorno e benvenuti vi presentiamo in vendita un'abitazione indipendente posta su due livelli in ottimo stato con zona esterna sia sul fronte che sul retro della casa ma dove siamo stefano dove siamo siamo in uno dei posti più belli del mondo siamo a porto cesareo questa abitazione si trova a circa 250 300 metri dal mare nella spiaggia di porto cesareo beh che dirvi ragazzi è un'abitazione meravigliosa ben tenuta e poi non possiamo dire che i proprietari sono tedeschi e quindi impeccabile come è giusto che sia per un tedesco è veramente una garanzia vi posso assicurare sono rimasta sbalordita dalla veramente l'impacchabilità di questa abitazione sia all'esterno che all'interno curata ben tenuta non c'è veramente da sistemare assolutamente nulla ottimo stato curata in ogni dettaglio ma possiamo già vedere questa struttura questa struttura esterna gasa serranda elettrica e beh si può tenere una macchina qui al sicuro e oltretutto protetta in tutto e per tutto questo nella parte esterna dove c'è il posto auto nelle piccole aione anche una cisterna per la raccolta d'acqua di riserva che ti permette di avere quando c'è poca pressione un'acqua di riserva in più quindi tutte le attrezzature necessarie anche per abitare d'inverno in questa abitazione che come vi dicevo è veramente impeccabile è stata ristrutturata quindi veramente gli spazi sono comodi come vediamo all'interno questa è la zona giorno e da questa è la scala che vi porterà su al primo piano dove ci sono due camere da letto veramente grandi ed un bagno e invece in questa zona giorno abbiamo una cucina abitabile di là un bagno una grande lavanderia veramente comoda e spaziosa vero stefano certo sarà prego davanti e devo dire anche se era permettimi che la casa strutturalmente è messa veramente molto molto bene tant'è che sappiamo tutti che nelle case di mare problemi di umidità di salmastro ci si riscontra sempre in queste situazioni invece qui non c'è assolutamente alcun difetto devo dire che è curata nei minimi dettagli anche come prevenzione all'umidità come vedete qui c'è l'accesso dalla parte del fronte dell'abitazione dai cui siamo entrati quindi anche una parte comoda comunicante mentre sul retro andiamo a vedere lo spazio esterno che c'è sul retro che vi consentirà di trascorrere le vostre giornate veramente in estremo relax e riservatezza quindi nel silenzio nella pace di questa stagione intermedia che ci permette di fare questo questo salto in questa abitazione venite a vedere da questa parte molto riservata anche qui una bella copertura un altro spazio coperto come ripostiglio e il barbecue il barbecue perché per godervi le serate appieno con un bel arrosto e poi la lavanderia ben assortita che si affaccia direttamente al bagno interno della zona notte e un ulteriore ripostiglio all'interno della lavanderia devo dire che è organizzata molto bene non finirò mai di dirlo Sara no no è veramente stupefacente questa abitazione io vi consiglio davvero di venire a vederla non ve ne pentirete